Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale si surriscalda il clima della campagna elettorale a Campobasso con l'attacco del candidato sindaco Michele Scasserra del Polo Civico al concorrente del centro-sinistra Antonio Battista. Il candidato sindaco del centro-sinistra Antonio Battista ha copiato il suo programma elettorale da quello elaborato da alcuni candidati dei comuni del nord nel lontano 2009 e lo ha diffuso con tanto di marchio copyright. Così l'aspirante sindaco del Polo Civico Michele Scasserra infiamma la campagna elettorale e lancia una vera e propria bomba mediatica contro il suo concorrente. No la bomba l'hanno lanciata loro noi ce ne siamo soltanto accorti perché redigere un programma insomma copiando letteralmente pezzi di programmi di altre città risalenti al 2009 o copiando discorsi di insediamento a sindaco di sindaci di comuni della Liguria piuttosto che la Lombardia dell'Umbria. Insomma io credo sia un atteggiamento diciamo poco corretto in una campagna elettorale che dovrebbe invece vederci rivolti noi candidati sindaci soprattutto all'elettorato con la massima trasparenza, la massima onestà intellettuale. Non solo polemiche ma anche una proposta. Certo ribadisco che non voglio nessun vantaggio competitivo da questa cosa e da questo fatto diciamo da questo problema da questo intoppo e sono disposto a sospendere la mia campagna elettorale se Battista lo volesse a condizione che il candidato Battista chiesse scusa, chieda scusa ai cittadini diciamo per questa svista e che rediga un programma sul quale sarà un piacere confrontarci a condizione che sia un programma autentico, vero e non una cozzaglia di parole scopiazzate da altri. Dunque a concluso i cambi di casacca non sono affatto giustificati dalla condivisione di un programma copiato da altri. La verità è che questo centro-sinistra risulta essere geneticamente modificato come già è accaduto alla regione. Intanto in mattinata lo stesso Scasserra insieme a Massimo Romano e Annunzio Lattanzio ha presentato la lista a lui collegata denominata Polo Civico. Sono per lo più giovani, sono professionisti, sono commercianti, sono operai, sono persone impegnate nella vita quotidiana, persone che mettono il massimo impegno in ciò che fanno e sono convinto che hanno accettato e deciso di candidarsi per mettere altrettanto impegno nell'amministrazione della cosa pubblica che puntiamo sicuramente a voler governare per i prossimi cinque anni. Facce nuove dunque della politica campo-basana tra le quali spicca quella della giornalista Marcella Tamburello. Tra i sostenitori del Polo Civico anche Annunzia Lattanzio, consigliere regionale del centro-sinistra, passata a gruppo misto. Perché questa scelta? Per contrastare la depressione dilagante in questa regione ma anche al comune di Campobasso. Tra i cittadini è necessario dare nuovo impulso e vivacità alla politica molisana, nello specifico a quella relativa al comune e all'amministrazione di Campobasso. Sulla vicenda di Battiste del programma copiato è intervenuto anche il coordinatore regionale del nuovo centro-destra Ulisse Di Giacomo. È una vicenda imbarazzante grave, ha detto, perché denota un'assoluta mancanza di rispetto verso il capologo di regione che meriterebbe di più e un programma amministrativo vero per svolgere il suo ruolo di città-regione. Perché ha continuato Di Giacomo un candidato sindaco di una città importante come Campobasso, non può non saper scrivere una sua proposta vera per i prossimi cinque anni di amministrazione. È grave perché dietro un programma copiato, dietro una coalizione che di centro-sinistra ha solo il nome, dietro una mucchiata che rincorre solo il potere, ha detto ancora il coordinatore del nuovo centro-destra, c'è una totale assenza di proposte e di iniziativa. C'è il vuoto assoluto di un disegno che fotocopia di quello messo in scena in regione che porterà alla scomparsa del Molise. Battista, concluso Di Giacomo, chieda scusa e si nasconda per il resto della campagna elettorale. E immediata è arrivata la replica di Antonio Battista alle dichiarazioni di Scasserra. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Atteso qualche ora prima di rispondere Antonio Battista, aspirante sindaco del centro-sinistra, poi la replica all'accusa del candidato sindaco di Campobasso del Polo Civico, Michele Scasserra. L'accusa era quella di aver copiato di sana piante il programma di sviluppo della città, una replica che in sostanza è anche l'ammissione di quanto denunciato dal suo avversario. Con estrema trasparenza, chiarito Battista, posso affermare che lo spirito per la costruzione delle linee di programma per la città di Campobasso si è basato anche su un'attenta lettura e studio dettagliato dei piani strategici proposti da oltre 100 città italiane, i vi compreso il comune di Campobasso ha precisato. Al fine di poter individuare gli approcci metodologici e le idee più moderni, perché la nostra città merita il meglio. L'aspirante sindaco ha anche spiegato come i suoi collaboratori abbiano lavorato all'assessura del documento, facendo proprio alcune frasi di altri soggetti impegnati nelle istituzioni. Ritengo abbiano ben agito, ha detto ancora il candidato del centro-sinistra, le idee di programma proposte alla cittadinanza sono tali e non assurgo un programma definitivo, in quanto quest'ultimo sarà costruito e rimodulato insieme ai cittadini attraverso il sistema partecipativo di cui mi faccio carico, con un costante confronto con loro. Alla città tutta confermo la mia passione e il mio leale impegno. Ha concluso Antonio Battista. Intanto oggi a Campobasso è stata presentata anche la lista di Forza Italia che sostiene il sindaco uscente Gino Di Bartolomeo. Alla presentazione è intervenuto Clemente Mastella in corsa alle europee con la stessa lista di Forza Italia. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. Clemente Mastella a Campobasso con un duplice ruolo, quello di candidato alle europee e quello di sostenitore della candidatura del sindaco uscente di Campobasso Gino Di Bartolomeo e della lista di Forza Italia. Io sono qua a sostenere il mio amico Gino, con il quale sono amico da 30 anni, nel senso che c'è un'amicizia che va al di là, anche a volte l'appartenenza politica. È rimasta tale, è in frequentazione, sul piano familiare anche, quindi devo dire che questo attestato di simpatia politica in realtà è in coda al tratto umano che è sempre caratterizzato sia a Gino che a me. Noi siamo un po' popolari e se volete anche un po' popolani, cioè capiamo quello che è l'umore della gente, ne capiamo i bisogni, ci pieghiamo le loro istanze, i loro bisogni e diciamo che questo è stato anche l'effetto di trascinamento che il sindaco ha avuto, Gino, nella scorsa tornata elettorale. Stavolta apparentemente li gioca da solo, però sarebbe dire meglio solo che me l'ha accompagnato, è accompagnato dalla gente comune. Poche parole riservate a Vincenzo Niro dopo il divorzio tra i due, il presidente del Consiglio come noto ha scelto il centro-sinistra, Mastella e Conforza Italia. Io mi lascio sempre con amicizia rispetto alle persone, poi ognuno fa scelte diverse e quindi come tale rispetto alle scelte, io rispetto la sua, lo rispetto alla mia. Poi ho partorito al mente tanti, niri, bianchi, rossi, quindi come tale la mia genia ha partorito come partito tantissimo, ognuno ha fatto la sua strada. Emozionato il sindaco uscente di Bartolomeo che non sembra essere particolarmente preoccupato di correre con una sola lista. Mi hanno abbandonato i maneggioni, coloro i quali hanno finito di fare una cosa e ne vogliono fare un'altra, vogliono mettere le mani sul comune perché il comune se va avanti la riforma, Renzi probabilmente acquisterà una valenza grossa, cioè il senatore sarà il sindaco perché sarà il senato delle autonomie, le province le nominerà il sindaco, insomma chi ha finito di mettere le mani in base da una parte vuole arrivare al comune. Quando non manda la nave a fondo i topi fuggono e questi sono i topi che hanno preferito andarsene, io avrei immaginato che fossero andati con gli altri, voglio dire, invece hanno fatto il salto della guaglia proprio, un salto in lungo, poteroso, andando a finire a sinistra. Evidentemente sono coloro i quali che nell'amministrazione mia si sono presentati solo per le commissioni, non sanno nemmeno che cosa è accaduto all'interno del comune e vanno a prendere posizioni e posti pensando che a sinistra ci sia l'Eldorato. Io mi auguro che la gente capisca, i disertori normalmente vengono presi quasi subito, insomma hanno presi i nazisti dopo a tardare, ma i disertori ripetono subito. Si intravedono segnali positivi per una possibile ripresa economica in Italia, ma nel Molise la situazione peggiora giorno dopo giorno. La regione appare disinteressata al dramma sociale che coinvolge migliaia di famiglie. Il servizio è ancora di Giovanni Minicozzi. Secondo gli ultimi indicatori economici nazionali, la crisi dovrebbe attenuarsi entro l'anno. I consumi infatti invertono seppur di poco la tendenza e cominciano a crescere e il governo di Matteo Renzi si è impegnato ad adottare provvedimenti per rilanciare lo sviluppo. Come sempre però il Molise viaggia contro mano, le difficoltà economiche e produttive aumentano giorno dopo giorno e dal governo regionale presieduto da Paolo Frattura non arrivano segnali incoraggianti. Le idee mancano e non esiste neanche uno straccio di progetto per frenare l'emorragia costante legata alla ulteriore perdita di posti di lavoro. Insomma, il Molise sta morendo in silenzio. Quello che allarma a mio avviso è la più assoluta mancanza di una idea politica per come consentire al Molise di uscire dalle secche di questa crisi che è drammatica per tutto il paese, ma in Molise lo è ancora di più. Penso non soltanto ai comparti tradizionali di cui si parla tanto, cioè le grandi crisi industriali, ma penso anche al piccolo commercio che sta morendo e a tutte le attività economiche che non riescono a trovare nessuna forma neppure di speranza da una politica regionale che pensa ad altro, pensa a vicende che non riguardano la vita di tutti i giorni. E quello che più mi preoccupa è proprio questa percezione che la giunta regionale e comunque la classe dirigente regionale non abbia proprio la percezione del dramma sociale che vivono sempre fasce sempre maggiori della popolazione. C'è un dramma nel dramma, quello legato ai giovani senza lavoro che se ne stanno lasciando il Molise. Ma guardi, su questo domenica scorsa il Corriere della Sera ha portato un'inchiesta dove il Molise è una delle 13 regioni d'Italia che è in ritardo rispetto all'approvazione del piano giovani, cioè un piano di un miliardo e mezzo di euro di fondi dello Stato proprio per l'inserimento lavorativo nel mondo professionale dei giovani. Il fatto che sia una delle 13 regioni che non l'ha ancora fatto denota un ritardo colpevole che a mio avviso va censurato, dopodiché la palla è in mano ai cittadini. Io mi auguro che ci siano, nelle forme ovviamente civili, ma delle forme di protesta serie perché altrimenti sembra quasi che questa crisi sia colpa di qualcuno che non si riesce neppure ad identificare. Ci sono delle responsabilità politiche che vanno accertate, vanno se del caso anche denunciate, ma c'è bisogno di uno slancio nuovo perché altrimenti io davvero non vedo futuro e sono preoccupato al di là del ruolo politico che posso avere come cittadino molisano. Ridefinire e seguendo criteri rigorosi le priorità legate agli interventi per la ricostruzione post-terremoto in base alle risorse disponibili e l'orientamento emerso dall'incontro che si è svolto tra il governatore Frattura e i sindaci dei comuni colpiti dal sisma del 2002. Abbiamo poco tempo a disposizione, ha detto. Ci troviamo di fronte a una carenza oggettiva di risorse e illusioni. Non possiamo consentircele, ha precisato il governatore. Nel corso della riunione è stato anche esaminato lo stato di avanzamento delle pratiche per i 5 milioni di euro erogati dalla Regione all'Agenzia di Protezione Civile a febbraio e non ancora liquidati alle imprese impegnate nella ricostruzione. La cronaca è stato arrestato il giovane che ha accoltellato una ballerina rumena in un night di Petrella Tifernina e ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Lei è grave in ospedale. Sentiamo i particolari. E agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico Luigi Sala, il giovane di 25 anni di Molise che ha accoltellato e vianda la rumena di 23 anni in un night di Petrella Tifernina. Le testimonianze raccolte e l'ammissione di colpa del ragazzo hanno portato il PM d'Angelo a chiedere e ottenere dal Gip Teresina a Pepe la misura cautelare. I carabinieri, come ha spiegato il maggiore Dominici della compagnia di Larino, continuano le indagini. Al momento le accuse sono di tentato omicidio e porto abusivo di arma, ma non è esclusa l'ipotesi di atti persecutori. I due forse si conoscevano. I fatti qualche giorno fa, prima del fine settimana, Luigi Sala era nel night. Intorno alle 5 del mattino l'alterco con la rumena. Motivi passionali a quanto sembra dalla ricostruzione effettuata. Un rifiuto alla base della reazione, un interesse sentimentale non corrisposto. Il giovane ha tirato fuori il coltello a serramanico con una lama di circa 9 centimetri e ha colpito dritto al torace la figurante di Sala e Vianda si è accasciata a terra. Lui se ne è andato. L'arrivo del 118 è la corsa in ospedale a Campobasso. Le condizioni della ragazza si erano aggravate. Aveva perso conoscenza, quindi l'operazione d'urgenza. Intanto nel locale notturno l'arrivo anche dei carabinieri. Il lavoro congiunto dei militari di Petrella, con quelli di Larino, Campobasso e Boiano, il coltello è stato ritrovato nel night. Le testimonianze raccolte hanno portato a individuare l'autore dell'accoltellamento che è stato rintracciato nel suo paese molise dai carabinieri di Torella del Sannio. La flagranza di reato non sussisteva al momento. Quindi l'arresto è avvenuto successivamente quando il quadro con il racconto del giovane e quello dei testimoni è diventato più chiaro. Lui ha ammesso le sue colpe. Gli inquirenti aspettano di parlare con la rumena per sapere di più anche in merito all'ipotesi di atti persecutori. Le condizioni della ragazza ricoverata in rianimazione sono stabili ma molto gravi. Non è cosciente e non è ancora fuori pericolo. 200.000 euro su cui due falsi imprenditori del settore energetico volevano mettere le mani. Dopo diversi esposti arrivati all'autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza di Campobasso ha così messo fine la truffa dei kilowatt denunciando i due falsi imprenditori che avevano già intascato 95.000 euro. Falsi e facili guadagni era la promessa che gli ideatori della truffa facevano a chi avrebbe ceduto loro terreni su cui erigere attività per produrre energia elettrica. E' stata sgominata dai carabinieri di Isernia una banda di ladri provenienti dal napoletano intercettati all'ingresso del capoluogo Pentro. Erano in 5 su 3 auto piene di arnesi da scasso. Forse si tratta della banda responsabile della razza di furti nelle abitazioni della provincia di Isernia. Sergio Di Vincenzo. Nelle loro auto avevano di tutto. Tenaglie, tronchesi, seghetti, passepartout e altro materiale utile per aprire o forzare serrature. Ma stavolta i ladri, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Isernia ancora prima che entrassero in azione. Dopo la telefonata al numero d'emergenza 112, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno bloccato una Fiat Punto, una Opel Corsa e una Ford Puma nella zona nord della città. A bordo c'erano 5 persone di età compresa tra i 27 e i 42 anni, tutte residenti a Napoli e tutte già note alle forze dell'ordine con precedenti per furti, ricettazione e altri reati contro il patrimonio. Gli inquirenti non solo sono convinti che fossero in zona per svuotare qualche appartamento, ma anche che abbiano qualche responsabilità in alcuni furti commessi di recente in provincia di Isernia. Per questo motivo la magistratura ha disposto ulteriori indagini che potrebbero portare i risultati già in settimana. Le auto, tutte senza assicurazione e già sottoposte a sequestro amministrativo, sono state nuovamente sequestrate insieme agli attrezzi da scasso. Per ora i 5 sono stati denunciati a piede libero, ma non sono esclusi ulteriori provvedimenti al termine delle indagini. Questa operazione dimostra quanto sia importante, se non decisiva, la collaborazione dei cittadini. È bastata una semplice telefonata al 112 per giunta gratuita per prevenire l'ennesima ondata di furti in città. Anche nei giorni scorsi, sempre in provincia di Isernia, la segnalazione di un cittadino ha permesso di fermare un altro pregiudicato, proveniente dal Frusinate, trovato in possesso di passamontagna, guanti e tutto il necessario per scassinare porte o finestre. Intanto i carabinieri della compagnia di Agnone hanno denunciato per furto aggravato in concorso un uomo di 27 anni e la sua compagna di 25. Entrambi i romani sono ritenuti responsabili di un colpo in una gioielleria di Agnone avvenuto nell'estate del 2013. Dopo aver distratto il commesso, avevano portato via un rotolo in panno pieno di gioielli. La coppia, si è appreso, aveva effettuato furti analoghi anche in alcune oreficerie nel Lazio. Torniamo a parlare di elezioni perché si vota anche a Termoli il 25 maggio e il presidente nazionale della democrazia cristiana, Gianni Fontana, è intervenuto per presentare la lista che sostiene il candidato sindaco, Michele Marone. Senza cultura politica non c'è capacità di guardare al futuro, ha affermato il responsabile del partito, Fabrizio Eccionero. A porto forte e convinto della democrazia cristiana, il candidato sindaco del centro-destra al comune di Termoli, Michele Marone, la lista è stata presentata ai piedi del castello Svevo, simbolo della città, dal segretario regionale Antonio Di Rocco. Il mare è in tempesta e dobbiamo mettercela tutta, ma siamo noi la barca vincente, ha affermato, ospite dell'incontro, il presidente nazionale della democrazia cristiana, Gianni Fontana, che ha indicato Marone come una garanzia di cambiamento. Noi non siamo con la testa rivolta lì indietro, ma siamo consapevoli che un partito, una forza politica, ha il futuro davanti a sé, se è all'interno collegata alle radici profonde, in una cultura politica. Fontana ha richiamato la riscoperta dei valori, noi ha spiegato, abbiamo fatto la storia e dobbiamo rialimentare l'attaccamento alla politica in un periodo di totale disaffezione. C'è bisogno di tornare alle culture politiche, questo è uno dei fatti decisivi per il rinnovamento dei partiti e delle istituzioni, alle culture politiche. Senza cultura politica non c'è capacità di visione. Il leader nazionale interpreta così il ruolo della democrazia cristiana nell'attuale scenario politico. Non è centrale perché è a metà, al centro tra una destra e una sinistra, ma vuole ribadire la sua centralità, tanto in quanto è capace di compiere una sintesi dei diverse domande, tensioni, speranze, paure che sono presenti nel paese. Si vota anche a Ferrazzano, comune limitrofo a Campobasso di oltre 3.000 abitanti. Si sfidano Antonio Cerio, ex consigliere provinciale, e l'avvocato Maria Assunta Baranello. La sfida è tra un uomo e una donna a Ferrazzano per la carica di sindaco, da una parte Antonio Cerio, ex consigliere comunale nel paese provinciale di Campobasso, dall'altra parte Maria Assunta Baranello, avvocato. Entrambi si presentano con liste civiche, specchio del territorio diviso in tre aree, quella rurale, il centro e i nuovi insediamenti verso il capoluogo. Cerio è candidato con la lista identità e futuro per Ferrazzano e punta su un comune aperto, politiche di trasparenza amministrativa, ambiente, istruzione, associazionismo, cultura, sport e tempo libero, ma anche territorio, anziani, valorizzazione dei prodotti agroalimentari e lavoro, servizi efficienti. Turistica, ricreativa, sportiva, perché la vocazione di Ferrazzano culturale è questa, quindi gli interventi che cercheremo di mettere in campo sono rivolti verso questa proiezione, verso il tempo libero, la cultura, lo sport e una vita tranquilla, anche se Ferrazzano è già vissuto dai cittadini che sono sopraggiunti, soprattutto nei nuovi insediamenti, più per dormitorio che per una vita sociale, cercheremo di sforzarci affinché le tre realtà urbanistiche si aggreghino socialmente tra di loro. Per fare questo investiremo molto nella scuola, perché la scuola, l'asilo dalla scuola materna, l'individuo comincia a sentire la vera appartenenza del territorio. Il lavoro tra le priorità anche di Maria Assunta Baranello con la lista Buongiorno Ferrazzano, che si concentra su politiche per i giovani, l'assistenza socio-sanitaria, il territorio e i servizi commisurati alle tasse, l'ambiente, la sicurezza pubblica, la cultura, il turismo e le strategie per sfruttare la programmazione europea. È un per l'appunto Ferrazzano proiettato in Europa, perché l'Europa è fonte di risorse per tutti quanti, per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti, per i giovani e anche per gli anziani. Il nostro punto di forza è proprio quello, formare i giovani nel rispetto di quello che ci hanno dato gli anziani. Nell'ottica delle città metropolitane, come sappiamo, Campobasso non è rientrata nelle città metropolitane, ragion per cui sarà per noi necessario e indispensabile proiettarsi nell'ottica dei consorsi di comuni e quindi lavorare in sinergia con Campobasso, Ripalimosani, Mirabello e tutti i paesi vicini, per ottimizzare tutti i servizi, per ottimizzare tutte le risorse e per favorire l'occupazione dei giovani, che purtroppo allo Stato non hanno lavoro. A due mesi esatti dall'arrivo in Molise di Papa Francesco, le curie di Campobasso e Isernia lavorano al programma della giornata in cui il Pontefice visiterà appunto le due città. Sentiamo Giovanni di Tota. L'appuntamento è destinato a rimanere nella storia della regione e delle due città. È avvenuto una ventina di anni fa con la visita di Giovanni Paolo II, il segno lasciato dal Papa Polacco. È ancora vivo a Campobasso l'ex Università Cattolica, oggi fondazione, porta il suo nome. Fu proprio Carol Voitila a benedire la prima pietra dell'istituto. A Termoli, nel luogo in cui fu celebrata la messa, gli è stata intitolata la piazza. Sul pianoro di Castelpetroso tutti ricordano il gioco tra Giovanni Paolo II e il vento, un suo amico, come amava sottolineare ai suoi più stretti collaboratori. A distanza di vent'anni da quei giorni, Francesco, il Papa venuto dall'altra parte del mondo, sarà di nuovo in Molise. A Campobasso, il comitato pastorale che studia il programma della giornata tornerà a riunirsi venerdì. Sul tavolo le proposte arrivate dalle associazioni e quelle da concordare con le istituzioni. Prima fra tutte, il luogo in cui verrà celebrata la messa. Si è detto che lo stadio di Selva Piana appare una delle soluzioni migliori per contenere una folla così vasta che arriverà in città il 5 luglio. Parcheggio e spalti, più il terreno da gioco, capacità approssimativa a 20.000 persone. Molte di più però potrebbe contenerle l'infilata di Corso Vittorio Emanuele, la proposta alternativa allo stadio che starebbe prendendo forma. L'altare potrebbe essere sistemato davanti al monumento ai caduti, mentre i fedeli troverebbero comodamente posto lungo il rettilineo del corso. Un po' come accade in via della conciliazione a Roma nelle grandi manifestazioni a piazza San Pietro. Maxi schermi a metà della strada principale della città e vie di sfogo laterali. In questo caso anche l'aspetto sicurezza verrebbe soddisfatto oltre ad una capienza di sicuro maggiore di quella dello stadio. Inoltre il corso sarebbe facile da raggiungere a piedi e anche dalle persone più anziane. Una proposta che sta prendendo piede e che sarà valutata in Curia. Intanto nel lagone della campagna elettorale è arrivato l'appello di Michele Scasserra ai suoi colleghi candidati sindaco e al sindaco in carica in particolare. Scasserra ha proposto a Di Bartolomeo, Battista, Gravina e Saluppo di preparare insieme la visita di Papa Francesco. Un momento di straordinaria importanza per tutta la comunità che non deve restare sullo sfondo del confronto politico. E anche a Isernia fervono i preparativi per la visita di Francesco. Intanto potrebbe essere il vicario generale della diocesi di Chieti, Monsignor Camillo Cibotti, il nuovo vescovo della diocesi. Enzo Di Gaetano. Diocesi e comune mobilitati a Isernia per organizzare al meglio l'accoglienza a Papa Francesco. Una visita a quella nel capoluogo Pentro che durerà quattro ore e il cui programma è sotto l'esame dei servizi di sicurezza del Pontefice. Papa Francesco arriverà a Isernia da Castelpetroso intorno alle 16 del 5 luglio, dopo aver incontrato una delegazione di giovani molisani nel santuario della Dolorata. Percorrerà in auto tutto Corso Garibaldi, che verrà transennato, fino ad arrivare in via Regno Ponzio e poi a Corso Marcelli, arrivo previsto alla cattedrale. Nella chiesa madre il Pontefice incontrerà i disabili, poi ripartirà dalla cattedrale e ripercorrerà tutto il percorso d'ingresso a Isernia fino allo stadio di Le Piane, dove ci sarà l'incontro vero e proprio con la cittadinanza isernina. Alle 20 la ripartenza per Roma. Durante tutta la sua permanenza a Isernia Papa Francesco verrà affiancato dall'arcivescovo Monsignor Visco e dal nuovo vescovo di Isernia e qui c'è l'indiscrezione che arriva dall'Abruzzo. Infatti Monsignor Camillo Cibbotti, vicario generale della diocesi di Chieti Vasto, parroco della centralissima chiesa della Trinità, figura di spicco della chiesa abruzzese, potrebbe essere lui il nuovo vescovo di Isernia Venafro. Le indiscrezioni corrono e oramai il suo nome, quello di Monsignor Cibbotti, sembra essere il più accreditato per raccogliere l'eredità di Monsignor Salvatore Visco, amatissimo vescovo della diocesi Pentra, partito da diverso tempo per l'arcidiocesi di Capua. Nessuno si sbottona più di tanto in Curia, ma la notizia arriva dall'Abruzzo, dove danno oramai per promosso in Molise il vicario generale della diocesi di Chieti Vasto. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.